Allora, un saluto a quelli che giochiamo a 3-7 un giorno, che stanno là. Poi un saluto a Antonello Lauretti, che sta in Olanda, capitano di Porto Sousa. Carlo ha finito con i saluti, ci fa ascoltare. Ho difeso il mio amore. Queste parole, scusate da chi, non ha visto più il sole per l'amore di lei. Io li ho trovati, in un campo di fiori. Sopra una pietra c'era scritto così, ho difeso. Ho difeso il mio amore. C'era una dama, l'otto di oggi. Lei era bella, era tutta per lui. Poi viene un'altra, l'ho strappo a dimanio. Cosa vuoi sia successo, lo capite anche voi. Ho difeso, ho difeso il mio amore. Grazie. 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 Grazie.